Una chitarra e quattro accordi, paure, incertezze, vittorie, uno che nella vita le ha provate veramente tutte. Da una lunga riabilitazione farmacologica all'incubo dell'elettroshock. 1975 all'ospedale Santa Maria della Pietà, il vecchio manicomio. Non si ricordava dove, non si ricordava come, non si ricordava che mi conosceva. È possibile che dei pazienti rilasciati facciano qualche cazzata. Stiamo parlando e mi viene quasi la pelle doc a dirlo di Carlo Babacci. Avete una leggenda qui in paese eh? Sto altro ha detto il lettore fa esistere il libro, tu stai a fa esistere babacci.